Nel febbraio 2014 nasce l'idea della mia sfida personale. Partire dall'Istituto Oncologico Veneto, Iov e pedalare per sette giorni, fino a Soverato, paese natio della mia oncologa Savina e dove ora lei giace. In bici per battere il cancro, la commovente e meravigliosa storia di Daniele Luppari, un ragazzo capace di fare dello sport il motore della sua vita. Pedala con Daniele, solo con Bike Channel. Grazie a tutti.